Benvenuto in Rippling. Nei prossimi 60 giorni verrà rilasciata nel mondo una nuova applicazione virale. Ne sentirei parlare presto nel tuo blog preferito, in tv e sui giornali. Ti chiederanno anche amici e familiari, persone totalmente sconosciute, vorranno sapere se tu la conosci. La tecnologia che utilizzerà non solo cambierà il modo in cui noi comunichiamo, ma sarà la più grande invenzione dopo le mail, perché cambierà il modo di lavorare nell'intero commercio online e offline. Avrai modo di capire cosa succede quando un'azienda esplode in modo virale, esattamente come è accaduto con Twitter, Facebook e molte altre. Immagina se tu avessi potuto avere la possibilità di partecipare all'inizio, prima che Facebook diventasse ciò che è adesso. Se fossi stato ad Harvard e avessi incontrato Mark Zuckerberg al bar, cosa vi avresti detto se avessi saputo chi era? Cosa avresti dato per far parte di quelle elite di persone che lavoravano a Facebook quando fu lanciato per la prima volta? Lui è ad Andangelo. Ha lavorato la programmazione della prima applicazione di Facebook all'inizio insieme a Mark Zuckerberg. Adesso possiede l'8% di Facebook, ovvero l'equivalente di 680 milioni di dollari a soli 27 anni. Questo è il motivo per cui è importante entrare nel posto giusto al momento giusto. E ora tu hai una possibilità, perché qualcuno che ti conosce attimo a te, ti ha mandato un invito per farti dare un'occhiata a ciò che succede dietro le quinte di Ripley. Avrai la possibilità di vedere una nuova tecnologia virale. Potrai entrare a far parte nelle cerchie ristrette dei promotori. Avrai la possibilità di invitare 5 tuoi amici a unirsi a noi. In questo momento la finestra è aperta, ma presto verrà chiusa. Ovviamente ci sono dei segreti commerciali che non possiamo ancora diffondere. Per questo motivo ti verrà chiesto di accettare un form dove accetterai di non rivelare quello che trovi dentro, ovvero ti impegni a non rivelare le informazioni che troverai dentro fino a quando la nostra piattaforma non verrà lanciata. Questo proteggerà entrambi e ti darà la possibilità di avere una posizione privilegiata in questa prima fase, prima che tutti gli altri ne vengano a conoscenza. Quando avrai finito di vedere questo video, ricordati di riempire il form qui sotto per avere immediatamente accesso al Ripley. Grazie a tutti.